Con i macchinari che produciamo qua nel distretto della Carta di Lucca portiamo la Toscana nel mondo. Questi accessori che oggi sono diventati di uso quotidiano saranno sempre più utilizzati dalle persone in giro per il mondo per proteggersi dal virus. È il materiale che serve ad affrontare l'emergenza, il cosiddetto tessuto non tessuto, usato per confezionare mascherine di protezione contro il coronavirus. Nasce da questi macchinari made in Lucca, ora presenti negli stabilimenti produttivi di Mezzomondo, dalla Cina all'Europa, passando per gli Stati Uniti. Il mercato ci richiede di aumentare la produzione dei macchinari destinati a questo tipo di prodotto e di accorciare molto i tempi di consegna. Dagli otto mesi di prima a oggi siamo intorno a quattro mesi. In questo scenario a servizio della filiera produttiva brilla una realtà tutta toscana. Azienda specializzata nel mercato igienico, oggi leader mondiale nella produzione di macchinari per avvolgere il tessuto non tessuto, il gruppo Celli di Porcari è in prima linea nella lotta al Covid. Siamo in prima linea con la fornitura dei macchinari ai nostri clienti nel mondo, ma lo siamo anche per la tutela dei nostri collaboratori, che per noi è il primo patrimonio aziendale, quindi ci atteniamo scrupolosamente alle regole che dobbiamo tenere per poter lavorare in sicurezza. Una sicurezza che già da ora valica i confini aziendali. Fino a ieri l'utilizzo delle mascherine in tessuto non in tessuto era inteso principalmente come strumento di sicurezza sanitaria. Oggi invece è sinonimo di sicurezza personale e rispetto sociale.